Buongiorno a tutti in questo piovosissimo sabato 10 di dicembre con TG Mattina 7.30. Come sempre ci siamo dunque per la nostra rassegna stampa. Partiamo dal messaggero, prima pagina nazionale, tangenti al Parlamento europeo. Arrestato per corruzione l'ex eurodeputato italiano Pier Antonio Panzeri con sua moglie e la figlia. Fermata anche la vicepresidente greca Eva Caili e altre tre persone. L'accusa mazzette per favorire il Qatar. La fotonotizia uccisa perché si vestiva così. Insulti shock sui social dopo la morte di Alessandra Matteuzzi uccisa a Bologna lo scorso 24 agosto. Il suo sicario, un ex calciatore che ha vestito anche la maglia del Foligno in passato. E poi appena sopra commercio un codice per tutelare chi compra, le misure, sconti, senza trucchi e stop alle false recensioni. Quindi risale anche il Covid ma c'è anche il picco influenza. Quasi un milione di italiani a letto, scrive il messaggero. E poi da città della Pieve stroncata la banda della Coca. Tremano centinaia di clienti affezionati tra Perugia, Terni e Siena. La nazione invece, soldi dal Qatar, scandalo in Europa. Affermato l'ex eurodeputato PD Panzeri, arrestata la moglie e la figlia, indagati Bisentini, sindacato mondiale, e la greca Eva Kaili. Decine di perquisizioni, sequestrati 600 mila euro in contanti. L'accusa mazzette per pilotare le politiche dell'Unione anche sui mondiali di calcio. E a profitto dei mondiali di calcio, la caduta degli dei con le lacrime di Neymar, che aveva segnato un gran gol, ma non è bastato al Brasile. La Croazia vince ai rigori e i carioca sono eliminati. Passa anche l'Argentina, sempre ai rigori contro l'Olanda. Dalle città Umbre invece, città di Castello, tragico schianto, folla e lacrime per l'addio ai due fidanzati. A Perugia, lotta al terrorismo, resta in carcere l'ex ufficiale tedesco e ancora ecco i numeri dei furbetti del reddito di cittadinanza per quanto riguarda sempre la regione Umbria. Andiamo agli approfondimenti all'interno dei quotidiani nazionali. Lo scandalo a Bruxelles dal messaggero, tangenti del Qatar all'Europarlamento, tremano i socialisti. Fermati quattro italiani e anche la vicepresidente greca Eva Kaili. L'ipotesi, denaro dal golfo per corrompere politici europei. Tra i coinvolti Panzeri, ex eurodeputato, a casa sua trovati 600 mila euro in contanti. La Lega attacca, il PD chiarisca di fronte alla Copasire, convoca Tajani in Parlamento. Antonio Panzeri, una ONG su diritti umani, la nuova vita dell'ex deputato, ex ulivo, ricostruisce proprio la storia di Panzeri il messaggero. Entra nell'Eurocamera con i socialisti tre anni fa, fonda l'agenzia perquisita ieri dalla Polizia. Luca Visentini, invece, da leader dei sindacati dell'Unione, ha responsabile mondiale. Gli inizi alla Wille, la lunga scalata in Europa e a novembre l'elezione alla guida dell'ITUC. Questo per quanto riguarda Luca Visentini. I dossier a rischio, i timori per Expo 2030, Roma e l'Italia. Vigilare. La capitale teme interferenze e manovre, la rivale più temuta è l'Arabia Saudita. Il sistema elettorale prevede tre voti, pesa ancora lo scotto delle Olimpiadi 2004. E poi ancora Eva Caili e il compagno Francesco Giorgi, con gli strani apprezzamenti su Doha, avanguardia nei diritti dei lavoratori. Vicepresidente dell'Eurocamera a Strasburga, difeso lo Stato che ospite mondiali sono buoni partner, aveva detto qui proprio Eva Caili, assieme al compagno italiano Francesco Giorgi in foto. E poi le misure economiche per quanto riguarda il governo. POSI, il tetto scende a 30 euro, pensioni minime a 600 euro, ma solo per gli over 75. L'esecutivo orientato a ridurre la soglia in attesa delle interlocuzioni con l'Unione Europea. L'incremento dell'assegno sarà legato a un livello di ISE particolarmente basso. Qui nel grafico proprio il calendario della manovra e dei fondi dell'Unione. Prosegue intanto anche il confronto con le banche per ridurre le commissioni sulle transazioni. Sul super bonus, spinta a spostare a metà gennaio il termine per presentare la CILAS per i lavori. E poi crediti di imposta, di evoluzioni fiscali, nuovi sostegni per centro e sud Italia. Palazzo Chigi ha concordato con i ministri interessati gli emendamenti alla manovra per il mezzogiorno. Le cifre 20, la dote del fondo in milioni di euro, la cui istituzione è prevista da un emendamento alla manovra per l'attività dei nonni che accudiscono i nipoti. 30, alcuni emendamenti di Fratelli d'Italia e Lega prevedono più risorse, pari a 30 milioni di euro nel 2023 e 60 nel 2024 per sostenere i cargiver. E poi la tutela del consumatore, sempre dal messaggero. Acquisti, sconti senza trucco, più tempo per cambiare idea. Arriva il provvedimento del governo che adotta le nuove regole europee. Quando si annuncia un calo del prezzo andrà indicato quello dell'ultimo mese. Il periodo in cui esercitare il recesso si estende a 30 giorni per le vendite a domicilio aumentano fino a un massimo di 10 milioni di sanzioni per pratiche ingannevoli. Intanto Deors nelle strade fino a giugno 2023, dunque tavolini all'aperto liberi almeno fino a fine giugno 2023. Questa la proroga per quanto riguarda l'emendamento aiuti Quater a firma Cantalamessa della Lega. I punti chiave prosegue il messaggero. Gli eventi, c'è lo stop e bagarini 2.0 che accaparrano biglietti. Pulito chi fa incetta di posti con programmi bot e poi li rivenda prezzo maggiorato. Per quanto riguarda invece il web, stretta su false recensioni e ricerche pubblicitarie. Nel mirino i commenti manipolati su piattaforme e siti per attrarre nuovi clienti. E poi i contratti, maggiori tutte le garanzie anche per i prodotti digitali. L'acquirente dovrà essere sempre in grado di entrare in contatto con il venditore. Veniamo anche alla Nazione, ritocchi alla manovra. Cambio il bonus per i 18 anni e nuovi aiuti al Sud. Pagamenti elettronici, la soglia minima versi 30-40 euro, scrive la Nazione, per le famiglie che hanno un isenze inferiore ai 35.000 euro. Allo studio un sostegno per pagare badanti e anche babysitter. Lavoro agile, l'obiettivo è quello di prolungare il regime attuale per tre mesi o addirittura fino al 31 dicembre 2023. E c'è anche chi vuole introdurre una tassa sul marmo a favore dei comuni di Massa e Carrara. E poi l'allarme di CNA, crediti incagliati per 5 miliardi sul super bonus, oltre 50.000 imprese in difficoltà. Le scelte dei partiti, la corsa alla segreteria DEM, il congresso PD, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che di recente è stato anche a Gualdo Tadino, getta la spugna e sceglie Bonaccini, è lui il più solido. Dopo mesi di tira e molle il sindaco di Pesaro non partecipa alle primarie. Sinistra al bivio tra l'appoggio alla Sclein o un candidato tutto suo. E poi i conti delle feste. Tanta voglia di neve, ma in 4,5 milioni sull'isci durante il ponte è una stangata da 1.600 euro. Quest'anno una famiglia spenderà 5.000 euro per una settimana bianca. Parla truzzi di assutenti. I prezzi sono cresciuti tra il 15 e il 18%. Per risparmiare c'è chi punta sulle mete meno gettonate. E poi ancora come risparmiare i fiori regali di Natale, decorazioni, albero, palline e luci svuotano le tasche. Anche i comuni tagliano per quanto riguarda le decorazioni, tra cui l'albero di Piazza Venezia ha impatto zero a Roma. E poi il pranzo di Natale salato. Il pranzo costa 340 milioni in più panettoni alle stelle per quanto concerne dunque anche l'enogastronomia natalizia. Quindi le sorti della guerra sempre dal corriere per quanto riguarda il conflitto bellico in Est-Europa. Ora Putin a Bassitoni. Accordo inevitabile, dichiara il premier russo, per la pace con Kiev. Il dialogo è già aperto. La vittoria militare è sempre più improbabile anche agli occhi dello Zara. Si moltiplicano i contatti tra le diplomazie dei due paesi in conflitto, trattative sul grano, ammoniaca e scambio di prigionieri. Intanto la Serbia vuole invaderci. Sale l'attenzione anche in Kosovo. La presidente Osmani, cui in foto denuncia, mire egemoniche di Belgrado, timori da parte dell'Unione. Torniamo al messaggero. La storia di Alessandro, uccisa dall'ex. Gli insulti dopo la morte. Certo, se si vestiva così, puntini puntini, denunciati dalla famiglia decine di haters. E l'inchiesta svela anche le frasi shock. Comportatevi sopriamente, vedrete che gran parte delle aggressioni si eviteranno. Si legge proprio nel virgolettato tra i commenti. E poi, ricordando che Alessandra Matteuzzi è stata uccisa, aveva 56 anni, a Bologna dall'ex, il 27enne Giovanni Padovani, come detto, ex calciatore, visto anche in maglia Foligno. Dopo il delitto sono aumentati i follower dell'assassino e va in scena il ribaltamento della realtà, scrive proprio il messaggero. E poi le emergenze invernali, recovery covid in risalita, ma è boom dell'influenza. In una settimana un milione di italiani a casa con la febbre, mai così tanti contagi. Coronavirus allerta negli ospedali di Umbria e Abruzzo, contratti vaccinali da rinegoziare, scrive ancora il messaggero. In tutto il mondo si registra un calo della variante Omicron, mentre in Italia la situazione invece sembra peggiorare. Questo per quanto riguarda l'incidenza, scrive proprio che a preoccupare di più sono nove regioni. Per quanto riguarda il covid, il tasso di occupazione dei reparti ordinali da parte di pazienti covid supera la soglia di allerta del 15%, in Umbria al 33,2%, Ligure, Val d'Aostra, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Australiana, cosa c'è da sapere? La febbre alta dura in genere un paio di giorni, gli anziani diabetici i più esposti alle complicanze per quanto riguarda l'influenza. E veniamo al Corriere dell'Umbria, prima pagina, con la cronaca in primo piano, spacciavano droga, arrestati i tre fratelli. Le indagini sulla famiglia albanese, residente a Città della Pieve, sono andate avanti oltre un anno, scrive proprio il Corriere. La fotonotizia riguarda lo straziante addio a Natascia e Gabriele, lacrime e silenzio per l'ultimo saluto a Città di Castello e fidanzati deceduti nello schianto sulla Tiberina. E poi, per quanto riguarda invece Terni, parla Bandecchi, mi candido perché nessuno è meglio di me, dichiara il patron della Ternana, a ruota libera sul suo impegno politico e sulla corsa per diventare sindaco. Inadeguato chi governa, peggio chi c'era prima, ha detto Bandecchi. Intanto consumo di suolo nel box a destra, Umbria peggio della media italiana, a Perugia il colonnello tedesco resta in carcere, a Deruta Tognazzi accende l'albero di ceramica, a Foligno sale dalla grondaia e svaligia un'abitazione, a Narni scontra allo stadio 12 tifosi denunciati, partita di eccellenza tra Narnese e Foligno. E poi calcio a 5 da un pugno in faccia all'arbitro, squalificato fino al 30 giugno 2026. Calcio ancora a caso Juventus, tanta Umbria nelle intercettazioni della Procura, Grifo l'attacco resta l'ultimo della Serie B e poi Ferre Andrazzoli cambiano le gerarchie in squadra per quanto riguarda anche il punto su Perugia. Eternana calcio, veniamo alla nazione per sempre insieme, tragedie di San Giustino, la Dionatascia e Gabriele, folla e lacrime nel Duomo di Città di Castello Perì, funerali dei due fidanzati morti a 22 anni nel terribile schianto. Le parole degli amici dei sacerdoti, il loro amore continua altrove, hanno detto. Appena sopra, reddito, stop a 5.000 furbetti, controlli preventivi di IMSS e forze dell'ordine sbarrano la porta a chi voleva il sostegno senza averne diritto. Sotto la testata, cocaina e hashish, lo spaccio allargato e affare di famiglia. Tre fratelli rifornivano l'Umbria e anche Siena. E dopo un Arnese Foligno di eccellenza, causa di violenza, denunce d'aspo per ben 12 tifosi. Ancora parla il guru di Lolli Planet, ecco perché scelgo l'Umbria, turismo, l'incronazione ufficiale per la regione dalla nota rivista di settore. E poi a Gubbio, l'impegno, bolletta sospesa, la Caritas in campo per i più deboli. A Terni, Borgo Bovio, al sindaco Latini, vogliamo più sicurezza, dichiarano i residenti dopo l'ultimo omicidio che c'è stato proprio nella zona ternana. Blitz antiterrorismo, Eder resta in carcere, convalidato l'arresto all'ex ufficiale tedesco. E poi influenza record, sono ammalati 11.000 bimbi. C'è stata solo una piccola frenata per gli adulti, ma tra i piccoli l'incidenza più alta del paese, scrive proprio la nazione. E di questo parla in primo piano anche il messaggero, nella sua prima pagina, influenza Covid, infetti da record e ospedali in tilt. La maggior parte dei casi, stando ai criteri delle sentinelle, non sono legate all'influenza stagionale, sottolineano i medici. E poi presa la banda della droga, tremano centinaia di clienti. Città della Pieve in manette tre fratelli, spaccio in tre province. E poi il terrorista resta in carcere a Perugia, a rischio fuga. Poi il malore, lui intanto si difende, dichiara Ero in vacanza. Allerta Meto Arancioni, i prefetti di Terni e Perugia chiudono tutte le scuole. Le ordinanze sono arrivate in tarda serata. Quindi città di Castello, ieri i funerali in Duomo. Natascia e Gabriele, l'ultimo saluto. Qui le bare bianche di Natascia e Gabriele coperte di fiori anche. Una maglia, una bandiera del Milan, di quel grande tifoso proprio Gabriele. Quindi, inchiesta Juventus tra le operazioni sospette. Anche il portiere del Perugia, Gori, e l'attaccante Umbro. Brunori Sandri, oggi in forza al Palermo. Perugia, rottamazione invece per tasse e multe vecchie. A Spoleto, radioterapia e la riapertura resta un'incognita. A Terni, per la casa della salute, arriva la svolta, scrive il messaggero. Sotto la testata, lo sport, Perugia calcio. Castori ha sistemato la difesa, adesso per il Grifo servono però i gol. Volle, il sir d'autore per l'esordio mondiale. Renata Giù, 3 a 0, nella notte ha vinto 3 a 1. La sua seconda partita, sempre la formazione bianconera. E poi, per quanto riguarda sempre il mondiale per club. E poi, Iannarilli per la Ternane, un pararigore. Grazie a Lulle e Ferre hanno quattro punti in più. Grande soddisfazione, sottolinea l'estremo difensore rosso-verde. Veniamo dunque al nostro tour online, partendo dal nostro sito www.trgmedia.it. Mal tempo, allerta meteo arancione per l'Umbria. E domenica potrebbe arrivare anche la neve. Chiuse tutte le scuole regionali, come ha deciso ieri sera sia il prefetto di Perugia che di Terni, per quanto riguarda la giornata odierna. Scorrendo le altre notizie, c'è anche quella legata al volley mondiale per club. Sir Perugia supera Sada, 3 a 1, e deprimato nella Pula, ora semifinale, contro i Tambe Minas, per quanto riguarda la formazione bianconera. Tutte le altre notizie sempre a nostra home, con il nostro archivio video, sempre aggiornato. www.trgmedia.it, c'è anche il Gubbio Calcio, oggi sfida a Sassari contro la Torres alle 14.30. Siamo in crescita, ma dobbiamo continuare a dimostrarlo in campo, ha detto Piero Braglia, che poi sentiremo. Veniamo a Umbria 24, anche qui in primo piano, vedete mal tempo, sabato scuole chiuse in tutta l'Umbria. Comunicarlo con una notte inviata dopo le 22 di venerdì, sono stati i prefetti di Perugia e Terni. Quindi, anche qui un selfie del bacio in spiaggia tra le due bale bianche, a Dio Natascia e Gabriele, morti sulla strada. Castella Braccia per l'ultima volta ai fidanzati, 22 anni deceduti nell'incidente di San Giustino insieme agli amici Luana e Nico. Perugia Today, anche qui all'Ertameti, il prefetto chiude tutte le scuole della provincia di Perugia e poi Best Travel 2023 all'Umbria, la decisione del colosso Lolley Planet e giornalista influencer per raccontare borghi, arte e food proprio in tour regionale. Veniamo quindi a tutt'oggi.info, all'Ertameti, i prefetti chiudono le scuole nella giornata di sabato. Tragedia San Giustino, ultimo strazzante saluto a Natascia e Gabriele. Narni, lista sfiorata al termine di una partita di calcio, denunciati 12 tifosi della Narnese. Notizia diretta.it, all'Ertameto, scuole chiuse sabato 10 dicembre e poi gratta e vince un milione di euro a Umbertide e Umbertide si accende anche il Natale con tutte le iniziative che sono state effettuate nel giorno dell'Immacolata. Venendo a Gualdo News, il cuoco medievale presentato a Nocera Umbria con la partecipazione di Anna Moroni. Ex ospedale Calai, prima di Natale potrebbero arrivare importanti novità e poi pugni in faccia all'arbitro durante una partita di calcio a 5 e tre anni e mezzo di squalifica. Veniamo quindi di nuovo ai quotidiani. Torniamo alla Corriere dell'Umbria. Consumo del suolo. Umbria, maglia nera. I risultati del rapporto ASVIS in pochi utilizzano i bus, l'auto privata scelta per l'83,6% degli spostamenti. Nella regione, cuore verde d'Italia, si registrano tra i più alti valori a livello nazionale e cresce anche l'abusivismo edilizio, sottolinea proprio il Corriere dell'Umbria. Sono tra i più alti d'Italia i dati sul consumo di suolo e l'uso di mezzi privati per gli spostamenti e il traffico in alcune zone diventa davvero pesante. La curiosità per istruzione e formazione siamo sopra alla media del Paese e arrivano i controllori per i gestori rifiuti. Il lauree alla ricerca di professionisti può affidare la verifica delle prestazioni e dei risultati. Lo shopping di Natale intanto parte bene in Umbria. I commercianti ottimisti, gli incassi stanno tenendo. Gli eventi fanno da traino, preoccupa però il meteo. Il presidente di Federmoda, Petrini, segnali positivi. L'avvio sembra anche migliore dello scorso anno, sottolinea anche dopo la giornata dell'Immacolata. Dopo due anni di restrizioni c'è la volontà di guardare avanti. E poi mancano volontari. Il presepe però di Marcellano a Gualdo Cattaneo non si farà. Salta una delle rappresentazioni più apprezzate. Nell'ultima edizione aveva richiamato ben 10.000 visitatori dunque per la mancanza di volontari. Il presepe di Marcellano quest'anno non verrà messo in piedi. E poi da Montefalco, i colori d'autunno del Sagrantino immortalati in una fotografia. Decretati i tre vincitori del challenge fotografico dedicato agli scorci unici che il territorio Umbro regala. Doppio appuntamento in occasione anche delle feste. E poi, adolescenti a rischio dipendenze, nascono quattro nuovi punti di ascolto. 300.000 euro per la prevenzione e l'attivazione presso i consultori dell'Alto Tevere, Perugino, Spoletino e Narnese. Veniamo alla nazione, la tragedia di San Giustino. L'ultimo saluto a Natascia e Gabriele saranno insieme per l'eternità. Una città di Castella ancora scossa, dato l'addio ai fidanzati morti nel terribile incidente che ha falciato la vita di quattro ragazzi. Tra le bare una commovente foto dei due giovani che si baciano. Per volere delle due famiglie i funerali si sono svolti insieme in un'unica, toccante cerimonia. Gabriele e Nati eravate splendidi, ricordo degli amici, in lacrime proprio dall'altare. Ancora, che questo sacrificio non sia vano. Le parole dei sacerdoti che hanno cercato di consulare i genitori e amici. C'era davvero una folla importante ai funerali. Il loro amore non è finito quella notte, è stato sottolineato. Perché da quella strada è stato tolto il guardareil? Non si dà pace dopo lo schianto. La domanda sulla bocca di tutta la comunità su Google Maps appariva ancora nel 2017, scrive la Nazione. E poi per la cronaca, spaccio al confine per evitare i controlli. Arrestati i tre fratelli residenti a Città della Pieve. Vendevano cocaina e ascisce tra Perugia, Ternia e Siena. Segue stata droga per 30.000 euro. E poi controlli e raffiche anche sulle strade. L'obiettivo è scongiurare le cosiddette stragi del sabato sera. E Antonio Albanese alla guida dei vigili del fuoco. Cambio al vertice in caserma. Il saluto di Francesco Orru. 15 mesi impegnativi e formativi, sottolinea. Sempre per la cronaca, ex ufficiale tedesco convalidato l'arresto. Maximilian Eder ha detto che si trovava a Perugia da turista. E' accusato di essere parte di una rete terroristica di estrema destra. E' ritenuto uno dei reclutatori dell'organizzazione. Durante l'udienza si è anche sentito male. L'influenza intanto di laghi in Umbria ha letto 11.000 bambini. Rispetto alla settimana scorsa c'è solo una piccola frenata tra gli adulti. Nell'età pediatrica invece abbiamo l'incidenza più alta del paese, scrive anche la nazione. In un mese i casi tra 0 e 4 anni si sono triplicati. Gli anziani si ammalano meno dei giovani, secondo i dati di InfluNet. Sanità dalla regione scarsa trasparenza, questo chiede Italia Viva. E poi ancora, parlando proprio del ritorno del virus sul messaggero, febbre e tosse. Mezza regione a letto. La maggior parte dei casi non sono legati all'influenza stagionale, sottolinano i medici. La statistica in Flunetta, la voce Umbria, oltre 17 casi per mille assistiti. I sintomi sono quelli tipici, ma sono di più le complicanze dei bronchi. Gli under 12 più colpiti, ma cresce l'incidenza anche tra gli adulti. Disabilità, intanto, ecco il libro bianco dell'Umbria e l'Umbria vince Best in Travel 2023. Il premio è stato assegnato a New York durante una cerimonia internazionale tenuta al Terminal 5. Madrina della serata, nella Grande Mela, l'attrice Umbra, Emanuela Pieroni, qui proprio raffigurata nello scatto per quanto riguarda Best in Travel 2023 e l'Umbria, che è stato riportato come paese da visitare per il prossimo anno che sta per giungere al suo inizio. L'inchiesta sugli estremisti, terrorista, resta in carcere intanto a Perugia. Rischio fuga, poi il malore. Perugia, la Corte d'Appello convalida l'arresto dell'ex colonnello accusato di golpe. L'uomo si è sentito male alla lettura di quanto gli viene contestato la sua difesa. Ero in città per un periodo di vacanze per fare alcune ricerche, ha detto. Quindi, violenta la cognata in casa, trova a risarcire 30.000 euro. Pesante condanna per un 51enne, tre anni e quattro mesi di reclusione. Questo dunque per quanto riguarda le notizie in primo piano sui quotidiani che proseguono. Sul Corriere dell'Umbria si riparte proprio dall'ex colonnello che resta in carcere, convalidato l'arresto del 64enne tedesco, arrestato per terrorismo. Si torna in aula il 19 per estradizione. Il detenuto ha accusato un malore al termine dell'udienza nell'aula di Corte d'Appello. A Ponte San Giovanni, il medico non vuole visitarlo per paura del coronavirus. E il paziente ha chiamato la polizia. Quindi, ancora, bimbo di un anno, lesioni non accidentali. Il risponso si è portato subito in pronto soccorso, si sarebbe salvato. Ora è affetto da tetraparesi. Il piccolo arrivo in ospedale in ipotermia e arresto cardiaco lo scorso 15 maggio per i periti è stato maltrattato. Il bimbo è stato dato in affido a una coppia dopo le dimissioni. E poi detenuti a scuola di mestieri. Terminato il corso professionalizzante per cuochi, idraulici e parrucchiere, che ha visto coinvolti 34 uomini e 15 donne. Qui poi per alcuni detenuti, aspiranti chef, che hanno frequentato il corso nella cucina del carcere perugino di Capanne. Cappelletto d'oro, domani la finale. Nella splendida cornice di Villa Buitoni verrà scelto il piatto più buono. L'evento organizzato da Rialumbria con diverse partnership. Veniamo quindi anche al messaggero. Multe e tasse, ciac, si cancella. Il comune studia l'ipotesi del condono sulle cartelle da 1000 euro. Soluzione da non scartare, sottolinea l'assessore Bertinelli. Violazioni stradali, mancano incassi per 2,5 milioni, per latare un buco del 27% sulla bolletta annuale. Vigili del fuoco albanese sostituisce Orru. E poi centro infanzia, case bruciate, via libera alla demolizione, verso il nuovo pollo scolastico. E poi, per quanto riguarda invece il piano CVA, scattano lavori per 50 mila euro. Per quanto riguarda i CVA sparsi nel territorio comunale perugino. Da tutta l'Umbria in fila per la cocaina. In manette tre fratelli facevano base a Città della Pieve e gestivano il traffico di droga proprio tra Perugia, Terni e Siena. La procura, stupefacente nascosto nel territorio di una provincia, è poi ceduto nelle due province limitrofe per rendere più difficoltose le indagini. Sequestrati 5 cellulari, tremano centinaia di clienti, molti di loro già identificati. Guardia Giurata intanto si spara in casa con la pistola. È vivo per miracolo. È successo proprio nel Perugino. E poi, inchiesta Juventus tra le 23 operazioni sospette, ci sono anche il portiere Gori e l'attaccante Bruno Risandri. Il portiere al centro di uno scambio nel 2020 tra i bianconeri e il Pisa. L'attaccante invece Umbro, qui in foto ai tempi del Foligno, ora è in maglia. Palermo è passato anche per la Juventus Under 23. Alcol al volante, stretta con i pirati. E poi allerta furti, controlli in superstrada nella zona di città di Castello. Veniamo anche alla Nazione. Scontri dopo un Arnese Foligno, nei guai 12 tifosi. Il pareggio al novantesimo non va giù a supporter locali che cercano lo scontro fisico con gli ospiti. Denunce e segnalazioni alla questura per il DASPO tra i rosso-blu. Ancora, reddito di cittadinanza, subito scovati 5.000 furbetti. Controlli preventivi funzionano. Intesa, intensa, scusate, l'attività dell'Inps, delle forze dell'ordine, respinte, molte domande. L'assegno non viene pagato. L'ente di ingrandimento sui requisiti di residenza in Italia e sui componenti del nucleo familiare. Qui nel grafico anche il reddito di cittadinanza in Umbra con le domande respinte, decadute e revocate per quanto riguarda dal 2019 al 2022 fino allo scorso 9 di dicembre. In Umbra le famiglie che hanno richiesto reddito pensione di cittadinanza sono state 12.156. In forte diminuzione anche le revoche, 9 al mese e i nuclei che decadono dal beneficio. Ottagono, bene lo studentato, ma adesso servono i servizi. Il PD soddisfatto della scelta dell'amministrazione. Attenzione su mobilità e sicurezza del quartiere. Il meteo, pioggia e vento, scatta l'allerta arancione. Tutta la regione nella morsa del maltempo. E poi tutta l'Umbria è splendida e rilassante, lo ha detto il vicepresidente di Lolli Planet che di recente era detto il cuore verde come metatop da visitare per il 2023. Ed è Eleonora Pieroni la testimonia del turismo delle radici. Nel 2017 portò la Quintana al Columbus Day, sempre nella terra americana. Folignate l'ambasciatrice dunque dell'Umbria a New York, è proprio Eleonora Pieroni. E poi Umbria Jazz, un'istituzione non una partecipata, il direttore artistico parla proprio di Umbria Jazz. Non possiamo essere trattati come una società, ha sottolineato Carlo Pagnotta. E poi Scuola Pubblica di Pila, per l'amministratore unico possibile un più 20% di premio. Questo dunque per quanto riguarda la pagina regionale. Noi passiamo ai territori e lo facciamo con il servizio che riguarda Gubbio, che riguarda un lato che sotto l'albero più grande del mondo non può mancare, ovvero quello legato ai presepi cittadini. Vediamo. È tornato per le vie del quartiere di San Martino di Gubbio il tradizionale e caratteristico presepe con le oltre 130 statue a grandezza naturale. Dalle lavandaglie al mercante di spezie, dal panettiere al contadino fino al liutaio. Tutti i personaggi che rievocano la vita, i messieri di un tempo e quelli della natività nella capana di Largolando, grazie all'impegno dei volontari, sono tornati al loro posto pronti a stupire il visitatore che li vede per la prima volta e a coinvolgere gli abitué nel clima delle feste. Per l'Immacolata Concezione si è rinnovata la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, del Sindaco Filippo Stirati, di Monsignor Giuliano Salciarini e di Don Nicola Battista. La via del presepe, questo il nome dell'allestimento, quest'anno compie 25 anni. Tema scelto per questa edizione è Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Sempre nel quartiere di San Martino, suggestivo anche il presepe lungo gli argini del Camignano, una vera e propria cartolina di Natale, apprezzatissima dai visitatori che dal ponte si affacciano per immortalare e godersi lo splendido scorcio del torrente che scorre e l'allestimento natalizio. A San Pietro, gradito ritorno del presepe vivente, un momento della tradizione che il quartiere ha voluto vivere e condividere con la comunità eugubina grazie all'impegno dei residenti, ai quali è andato il ringraziamento del Vescovo, del Parroco, Don Andrea Svanosio, del Sindaco e degli Assessori Uccellani e Damiani. Più di 15 le postazioni, ognuna con un personaggio diverso, come l'erborista, la pastaglia, la lanara, il notaio, il piccolo forno col pane e le pagnotte, la pittrice, la ricamatrice. La capanna con la natività è stata allestita nella piazza. Il prossimo appuntamento con il presepe vivente è previsto nel pomeriggio del 26 dicembre. Presepi da vedere non solo nel centro storico, degno di nota è anche l'allestimento della natività nella frazione di Ponte d'Assi. Da 7 anni il giovane Lorenzo Notari, aiutato da qualche amico, si impegna nel realizzare il presepe a grandezza naturale, che quest'anno si è arricchito di 22 nuove statue, tutte realizzate con cura, creatività e passione. È cresciuto, quest'anno ci siamo ancora di più ingranditi. Abbiamo fatto 22 statue a grandezza naturale in più, arrivando alle 62 statue. Questo grazie a chi insieme a me da settembre collabora a questo progetto, che è ormai un progetto per la comunità. Grazie al sindaco Stirati e all'assessore Tasso per averci concesso anche quest'anno la pubblica illuminazione, al circolo Aspi per averci messo a disposizione i locali per poter vestire i personaggi e al garden che quest'anno ci ha fornito di nuovo le piante per poter imbellire lo spazio. Qui cerchiamo di adoperarci in qualsiasi modo per poter portare creatività e innovazioni in questo presepe. Speri di ingrandirti ancora di più l'anno prossimo? In realtà il progetto c'è. Adesso vediamo un po' con le tempistiche se ci riusciamo, ma ovviamente credo di sì. E ripartiamo dal Correre dell'Umbria e da Città della Pieve. Anche qui la notizia dello spaccio di droga tra Umbria e Toscana. Arrestati i tre fratelli, la polizia ha controllato gli albanesi per più di un anno. Seguestra di cocaina e ascisce per un valore sul mercato di 30.000 euro. Sopra, Archio Trasimeno riprende l'attività dopo lo stop per Covid. L'associazione si ritroverà alle 15.30 a Castione del Lago per fare il punto della situazione e parlare del futuro museo. Andiamo anche ad Assisi. Spettacoli, video e addobbi di Natale per la casa di riposo Andrea Rossi. Sono alcune dell'iniziativa a sostegno della struttura. Protagonisti anche i bambini. Tap Dance, Laura Marini con il ritmo nei piedi conquista la medaglia d'oro. L'ottimo risultato al campionato del mondo in Croazia per la diciottenne Bastiola. Ancora, per quanto riguarda invece in questo caso Todi, illuminazione sulla strada del cimitero vecchio. Intervento per 90.000 euro dopo le numerose richieste. Transito vetato intanto nei feriali per il cantiere. Gli operai stanno ripulendo anche i fossi laterali e le cunette per rendere la viabilità più sicura in caso di pioggia. A Marsciano la squadra mista di Pallavolo dona il sangue e a Monte Castello di Vibio si aprono nel pomeriggio gli eventi delle festività di proloco e associazioni. Città di Castello, a pianto anche il cielo, titola proprio per quanto riguarda l'ultimo saluto a Natascia Gabriele, il Corriere con tanto di fotoreportage proprio dei funerali. Silenzio e lacrime davanti alle due bare bianche in cattedrale. Per lei un tappetto di peluche, per il fidanzato, la maglia del rio secco. C'è anche chiaramente quella del Milan con tanto di bandiera proprio. Un dolore infinito con l'eseguo di Natascia Baldacce e Gabriele Marghi insieme a quelle di Laura Ballini e Nico Dolfi i cui funerali c'erano già stati qualche giorno orzono. Se ci fosse stato il guardarei, il mia figlia si sarebbe salvata. La rabbia del padre di Luana, le richieste dei legali delle famiglie. Il parroco Don Achille li ha paragonati un fiore indiano che vive in un giorno una vita breve, intensa ed essenziale. Questo viene riportato con tanto, come detto, di fotografie dei funerali sul Corriere dell'Umbria. Contro l'abbandono scolastico, comune e scuole fanno rete, sempre dal Corriere, da Città di Castello. Progetto del campus Patrizio Baldelli-Cavallotti destinato ai ragazzi tra gli 8 e i 12 anni. Nuova dirigenza per la Proloco Piosina, presidente Perugini al lavoro per preparare la festa di Natale agli anziani. Mostra sugli scavi agravisca degli studenti del Plinio. Lo scopo è quello di condividere con la comunità la campagna svolta da 20 ragazzi assieme a ricercatori e universitari. A Umbertide, caro Bollette, c'è tempo fino a martedì per richiedere il bonus. Intervento dell'amministrazione rivolta ai pensionati per combattere rincari di luce gas, cadutore in base ai redditi del 2021. Andiamo a Gualdo Tadino. Si sblocca il recupero dell'ex Calai. L'edificio diventerà ospedale di comunità con 20 posti lette e servizi di medicina del territorio. Lo annuncia il sindaco Presciutti dopo un incontro con i vertici della regione sul piatto. Ci sono 9 milioni di euro. A Gubbio, Confcommercio, Paolo Bettelli e Stefano Mencarelli scommettono contro la crisi e aprono nuove attività in centro. Scusate, non Confcommercio, ma il commercio per quanto riguarda Gubbio. Dunque, nuove attività per Paolo Bettelli e Stefano Mencarelli in centro storico a Gubbio per contrastare la crisi e si cerca di investire. E poi, tornando a Gualdo, libro di Amoni su tre secoli di economia. Sarà presentato proprio nei prossimi giorni. E per quanto riguarda invece Gubbio, la città si può scoprire anche attraverso i 20 podcast gratuiti ideati da Plenair. Si tratta di un viaggio tra storie, segreti e caratteristiche, tutto in chiave audio. E a Nocera Umbra, a passeggio tra i resti della Cività Longobarda, domani iniziativa del gruppo Trekking. La partenza con le guide è prevista dalle 9.15 da Piazza Medaglie d'Oro a Nocera. Andiamo a Foligno, sale dalla grondaia e ruba il quinto piano. Il furto messo a segno in un condominio nella zona dei Canapè, altro colpo sempre ieri, in via Monte San Michele. Turisti, federal alberghi ottimista, capodanno col segno più, queste le previsioni. L'ite fra stranieri invece, vicino chiama la polizia, volente a discussione scoppiata all'interno di una roulotte parcheggiata in strada 2, li identificati. Solidarietà, raccolti 3.500 euro per il Chianelli, su iniziativa del Lions, saranno destinati al supporto dei bimbi trapiantati. E studenti pronti per l'Olimpiadi di Cybersicurezza, ragazzi di Istituto Da Vinci, ieri hanno incontrato due esperti del settore sulla cybersicurezza, chiaramente. E torna anche il treno della solidarietà per aiutare i bimbi meno fortunati. Iniziative della Caritas per le famiglie in difficoltà, raccolta bene di prima necessità nei supermercati, sempre nel Folignate. Andando invece nello spoletino, si parla del piano regolatore. Norma finisce al vaglio della consulta. Sollevata questione di legittimità, fu legge regionale 2014, che consentì al Comune di superare l'annullamento dello strumento urbanistico. Proloco Busetti premiato, invece, tra le più antiche d'Italia. Fu fondata nel 1901 e oggi si inaugurano i presepi. L'ex spoletina assegnata a la Mamà Umbria International. Il riconoscimento viene attribuito alla manifestazione per la promozione della città nel mondo dell'arte e in favore dei giovani. Ancora, sempre da Spoleto, sold out per Maurizio Battista. Vola la rassegna, cade d'inverno. Lo spettacolo proprio del comico romano, uno degli appuntamenti di punta, attesi anche i cori gospel. Prevenzione truffe, nuovi incontri con i carabinieri, sempre da Spoleto, proseguono le iniziative su tutto il territorio. Andiamo a Terni, dove parla il presidente della Ternana, Bandecchi, che scende in campo anche in politica. Inadeguato, ha detto Bandecchi, chi sta governando è ancora peggio di chi c'era prima. Bandecchi a ruota libera sul suo impegno politico e sulla candidatura a sindaco per alternativa popolare, movimento che ambisce ottenere consenze anche a livello nazionale. Sono già al lavoro sul territorio. 250 persone, ha detto Bandecchi, nel giorno della presentazione della sua candidatura a sindaco di Terni. Ho deciso perché penso che gli altri siano meno capaci di me. fu la sua discesa in campo, mi sostegno a nessuno, se qualcuno vuole aiutare me, la porta è aperta, sull'ipotesi di una coalizione per il presidente delle fere. Più controlli e telecamere per la sicurezza del quartiere, ricevuti dal sindaco e gli abitanti di Borgo Bovio, esasperati dopo l'assassino del 39enne tunisino. Ordina un omicidio dal carcere di Sabbione, ma viene smascherato. Bidognetti avrebbe deciso di lavare col sangue un'offesa al nipote. Questo per quanto riguarda Gianluca Vidognetti, recluso proprio nel carcere di vocabolo Sabbione, in regime di alta sicurezza che avrebbe ordinato un omicida a distanza. La luce e gli eventi di Natale promossi dai commercianti. Resta un mistero il nome dell'artista che animerà il Capodanno in piazza. Le vibrazioni restano in pole position, ma l'annuncio ancora rinviato. Vedremo se sarà il gruppo di Sarcina. Il bando assegnato dal comune ha risolto anche il problema di pagarsi da soli le luminari. Qui in foto tutti gli intervistati da parte del Corriere dell'Umbria. Pittura, scultura, fotografia, cartellini in mostra. Viene inaugurata oggi la collettiva di artisti. Incontri natalizi 2022 al Museo Diocesano. Quindi da Narni scontri allo stadio denunciati 12 tifosi dopo la partita con il Foligno. A Calvi dell'Umbria, Borghi in festa per Natale con tante iniziative. Mentre a Guardea il pianista Massimo Taddei in concerto nella sala consigliare. Oggi pomeriggio l'appuntamento con l'associazione Arava Fenice dedicato alle giovani promesse della musica con inizio alle 17.30. Andiamo anche ad Orvieto. Pochi parcheggi in centro e scatta la polemica. Proteste dei residenti perché ne sono stati soppresse alcuni in piazza scalza a causa del cambio della segnaletica. Inserito stop da una via secondaria ci si deve attenere al codice. Questa è la risposta del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. E poi a Porano è festa nel borgo di Babbo Natale nel vivo l'evento promosso dalla Proloco insieme a Comune e Ancescao. E poi da Orvieto serata di musica, amicizia e solidarietà per ricordare Marco Provenzani. Venuta a mancare a 38 anni e venerdì 16 nei locali parrocchiali di Ponte del Sole. Iniziativa dell'associazione Diamoci una mano nel nome del giovane fisioterapista prematuramente scomparso. Andiamo anche al messaggero Natasce Gabriele, lacrime peluche, città di Castello, cattedrale stracolma per salutare i due fidanzati morti nello schianto di San Giustino. Per lei pupazzo e per lui sulla vara la maglia del Rio Secco. Don Achilla agli amici cercate di coltivare questa vita. A Gubbio invece mamme multate per non far bagnare i bimbi. E' successo, come riporta proprio il messaggero, mercoledì scorso, che era un prefestivo per quanto riguarda il Comune, ha fatto scattare il rilevamento delle targhe di auto non autorizzata all'ingresso uscita nella ZTL. Situazione imbarazzante, scrive soprattutto nella porta di San Pietro il messaggero, dove molti genitori non si sono accorti del varco interdetto che dall'ore 14 si segnalava rosso, essendo intenti ad andare a riprendere i propri figli alla scuola Montessori. E così sono scattate le multe. A Magione intanto la sfida di Molini Fagioli per quanto riguarda l'economia regionale. Assisi aggredisce poliziotti in un negozio. E' successo a Santa Maria degli Angeli, un 44enne ubriaca creato disagio. Assisi di Santi guida la Conf Commercio e poi festa ex dipendenti del Molino Petrini. A Bastia incontra in occasione di 200 anni della nascita di un'azienda che ha fatto storia, scrive il messaggero. A Foligno, Immacolata, funziona il programma per le festività, sottolinea Amoni. Turisti acquirenti hanno trovato una città accogliente ricca di eventi. Piace molto la natività sotto l'albero di Natale di Luci, raffica di appuntamenti in città, ha detto proprio il presidente di Conf Commercio Foligno, Amoni. Quintana, Innocenzi, riconfermato Cavaliere del Rione, Cassero, per quanto riguarda anche la giostra Folignate. Da Spoleti invece, Radioterapia, incognite sulla sospensione del servizio. Proroga al 31 marzo con riserva per la manutenzione del macchinario. Utenti disorientati, plastica a via raccolta, fondi per il trasporto negli altri ospedali. E poi ancora il Vescovo lancia l'appello per le vocazioni dopo i due nuovi preti nella diocesi. E per quanto riguarda invece Terni, Casa della Salute, parla l'USL2. Progettazione avanzata, in attesa del nuovo Santa Maria, si sblocca l'iter per realizzare una struttura post-covid. Sarà realizzata con i fondi del PNRR, ammoderneremo edifici già presenti, che erano proprio dall'azienda sanitaria. Quindi, tassa sui disabili, retromarcia del Comune, non basta. Palazzo Spada ritira gli aumenti sui servizi cimiteriali, ma restano 20 euro per il pass. Invadiamo il Comune. Il Comune viene appunto ribadito. E poi Borgobovio, gli abitanti dal Sindaco, subito un protocollo per la sicurezza, dopo l'ultimo omicidio di Rija Jamawi, ammazzato proprio di botte a Borgobovio. E c'è il ricorso al riesame, per quanto riguarda proprio le indagini sul suo omicidio. Bollette appeso d'oro, caccia alle stufa legno, ma sono introvabili, scrive sempre il messaggero. Una vera e propria corsa all'acquisto, determinata soprattutto dall'aumento dei prezzi, dell'energia e dagli incentivi statali. Incendio a Neramontori. Il Comune revoca l'ordinanza che vietava il consumo di ortaggi. A direttare la fine dell'emergenza, le analisi positive arrivate da Arpa sulla presenza delle diossine. E trovati anche i soldi per il nuovo pala di vittorio. Subito i lavori, via alla delibera, sarà rifatto il campo da gioco e ci sarà anche la riqualificazione della copertura per quanto riguarda l'area. E poi c'è via Angeloni al buio. Luminare e fai da te, polemica con il Comune che non ha installato gli addobbi. Le nostre decorazioni green e con un pizzico di provocazione, hanno sottolineato i commercianti di via Angeloni. E poi Orvieto, concerto stoppato dal Covid, dopo due anni si torna al Mancinelli. Questo per quanto riguarda dunque anche il messaggero. Veniamo ai territori anche Fulanazione, da Cassione del Lago, i paesaggi di Perugina e Signorelli. Un progetto multimediale con un'installazione immersiva per omaggiare i due grandi artisti. Qui una delle scene proposte sarà visitabile fino all'8 gennaio nell'ambito della rassegna Luci sul Trasimeno. E poi da Magioni, volontari in oncologia per portare doni ai bambini malati. L'iniziativa è stata promossa dalla misericordia e realizzata grazie all'impegno di tre ragazzi. A Santa Mere degli Angeli molesta i clienti e insulta i poliziotti. Ineguai uno straniero di 44 anni risultato in stato di ebrezza. Concorso alberi artistici, arriva il primo trionfo del Rione, San Rocco, Abastia, Umbra. Quindi a Gubbio, Caritas, Diocesana. Ecco la bolletta sospesa, impegno concreto per venire incontro e chi è in difficoltà. Il direttore Uccellani, i costi energetici sono spesso insostenibili, ha sottolineato. E poi l'economia Gualdo Tadino, storia da sfogliare. Un viaggio dal 700 ai nostri giorni. Il libro di Daniela Moni verrà presentato domani alle ore 11. A Nocera Umbra nascono nuove strade, completata dalla prima fase di revisione della toponomastica cittadina. E poi evento oggi alla Sperelliana, iniziativa editoriale e mostra bibliografica sulla figura di Sant'Ubaldo, esorcista oggi alle 16 alla Biblioteca Sperelliana di Gubbio. A Città di Castello, la vicenda del Canile, tra i banchi del Consiglio, la struttura comprensoriale era stata ispezionata dal Nasse e il Sindaco aveva deciso di chiuderla ai nuovi ingressi fino alla messa. A Norma, intanto Giuliano Tartufi da Pietralunga si espande e arriva a Riccione, città dinamica e versatile come la nostra idea imprenditoriale viene proprio rimarcato dal gruppo Giuliano Tartufi. Tra Passione e Droni, il mestiere dei volontari da Foligno, il gruppo Città di Foligno si racconta tra un'emergenza e l'altra. Sappiamo improvvisare senza essere improvvisati, hanno detto Caritas al fianco degli ultimi, anche durante le feste di Natale, anche a Foligno. Flaminia, riqualificazioni in panni, cantieri promessi non arrivano, i commercianti che hanno l'attività nel tratto compreso tra Spolete e Terni sollecitano interventi urgenti. E ancora da Terni il grido di Borgobovio, vogliamo vivere sicuri dopo l'ultimo caso di omicidio. Appello invece a Piediluco, a Palazzo Spada dopo i furti, più controlli e anche videosorveglianza viene chiesto. A Orvieto, sindacati in pressing sulla fondazione, le parti sociali chiedono l'aumento di capitale affinché l'ente non perde il suo peso nel CDA. E poi, sempre da Orvieto, realizzare una REMS gravissimo sfregiare la città, la relazione del consigliere Barbavella al progetto di una comunità all'ex Piave. Veniamo anche al Tempo Libero, cultura, spettacoli e società, sempre dalla Nazione, energie, ritmi, vibranti, la Parson Dance, martedì 13 alla Lyric, la tappa ombra del nuovo tour italiano e della compagnia americana. In scena l'arte del ballo che trasmette vitalità. Corciano intanto diventa il Borgo degli Angeli, mostre e videoproiezioni, preseppe monumentali, appuntamenti per tutta la famiglia. La Bohème, la Lyrica sposa la cinematografia, allestimento visionario per l'opera di Puccini, stasera al Manini di Narni. Quindi il coronero si fa anche con il vetro di Alemagna, diventa un libro e il manoscritto del Settecento ritrovato da Pezzella sulla tecnica per creare le tinte. Perugino Umbria Jazz, l'Umbria mondiale, dopo la guida Best in Travel 2023 di Lonely Planet per la nostra regione. Vogliamo promuovere ancora di più una terra unica, ha detto l'assessore Agabiti. Consigliamo di visitarla tutta, non solo per una, due o tre giorni, ha detto il vicepresidente proprio di Lonely Planet, Tom Hall, che era ieri proprio nella Galleria Nazionale. A Todi domani la sfida medievale per i maccheroni dolci più buoni. Calendare premi oggi Galassi al Brufani per quanto riguarda anche il motosport regionale. Tognazzi l'albero di Deruta, papà sarebbe stato orgoglioso, ha detto il noto regista attore Ricchi, che ha acceso proprio l'albero di ceramica di Deruta. E a Casa Castaldia si accende oggi il presepe più grande del mondo alle 17.45, la natività luminosa di Valfabrica. L'album del Corriere sarà Arts Contemporanea e ospitare la prima del film The Dream Fisher, intervista Gianluca Brundo sul Corriere, protagonista della pellicola del regista Roberto Valdes, il lavoro ambientato in Umbria, location Castiglione del Lago e anche il Trasimeno. L'energia intanto della Parson Dance, protagonista del teatro Lyric, lo riporta anche il Corriere, grande attesa per la performance della compagnia americana, proprio in terra assisana. Quindi la Fiber Art di Silvia Gianni a Palazzo della Cornia, a Città della Pieve, una mostra di opere tessili. Veniamo allo sport, partendo dal Quest, inserto della Nazione, partendo dal Perugia Calcio. Grifo che la difesa è giusta, ma mancano i gol. Tre sfide senza subire reti, nell'ultime cinque gare appena due incassate, nessuno meglio in Serie B, pesa però tanto il peggior attacco. Intanto Dell'Orco recupera la rifinitura al Curi, per quanto riguarda la prossima partita sul campo del Cagliari per il Grifo. Stiamo crescendo, andiamo a Cagliari con fiducia, sottolinea il difensore Sgarbi. La Ternale intanto può contare sul rientro di Favilli, domani la sfida a Bolzano con il Suttirol di Tacchio, in diffida per la formazione di Andrea Zoli. E in Serie C il Gubbio contro la Torres vuole allungare la scena di successi. Sono quattro consecutivi nella trasferta sarda, Semeraro candidato a sostituire Bonini in difesa. C'è anche l'ipotesi Redolfi. Chiaramente, questo per quanto riguarda proprio il Gubbio, e sentiamo allora, proprio a poche ore dalla sfida contro la Torres a Sassari, le parole anche di Mister Braglia nel servizio. Quattro vittore filate, con nove gol fatti e zero subiti. Secondo posto a quota 35, un punto sotto la capolista reggiana, con il miglior attacco del girone BDC, a quota 27 gol segnati, e quarta miglior difesa con 12 gol subiti. Così il Gubbio entra nel diciottesimo turno di campionato, che vedrà i rosso-blu duellari in terra sarda al Vanni Sanna di Sassari contro la Torres, con fischio d'inizio atteso per le 14.30. Una Torres a quota 20 in dodicesima piazza, a più 5 dai play-out e a meno 5 dai play-off. Possibile 4-4-2 per Mister Greco, ancora senza ruocco, ma che recupera Dametto in difesa, e in attacco dovrebbe confermare Diachite e Scappini, autore del rigore decisivo a Carrara nell'ultimo turno. Braglia invece non dovrebbe discostarsi dal 3-4-1-2 visto nell'ultimo periodo. Out Bonini per squalifica, in difesa è pronta a tornare Redolfi, mentre in attacco ci sarà ancora Arena a supporto di Mbakogo e Vasquez, anche se scalpi Taspina. Per il tecnico rosso-blu però, più che il modulo sarà centrale l'approccio e l'atteggiamento. Per me non è importante il modulo, è importante l'atteggiamento che si pone alla squadra, l'atteggiamento di quello che uno vuole fare un ragazzo della propria vita. Qui si parla tanto di moduli, ma moduli nel calcio se non li cambi due o tre volte durante una partita, quando ti prendono le misure, che fai? Rimani attaccato al modulo perché te giochi in una maniera, allora gli dobbiamo dare un riferimento. Ancora, il calcio è cambiato, il calcio è cambiato e si evolve continuamente. È chiaro che se le cose vanno bene nessuno le va a toccare le cose, no? Ma se te le cose non ti girano bene, stai soffrendo. Poi è tutto come uno riesce a stare a coprire il campo. Il modulo è quello che copre meglio il campo, quello più adatto, gli spazi, quello che riesce a far giocare a meno gli altri e di più te. Ultimamente siamo diventati più intelligenti nel gestire la gara, siamo diventati più bravi a iniziare la gara, con un certo piglio che poi fanno le squadre importanti. e poi vedere alla fine quello che ci si presenterà dal campo, perché poi è sempre il campo che decide il tutto. Noi dobbiamo essere all'altezza, poi vediamo. E sulla questione relativa ai singoli, Braglia non ha dubbi sul giocatore che, nonostante tangibili miglioramenti nell'ultimo periodo, caratterialmente ha più dato da fare al tecnico Maremmano. Bulevardi, perché è un capone. Giocatore, devi vedere, sai giocare a calcio? Sì, basta, poi ti devi adeguare, corri. Sì, e allora qual è il problema? Se è a 26, 27 anni, come è adesso Danilo, non riesce a gestire certe situazioni, vuol dire che dove si trova in questo momento qui è meritato da parte sua. Perché lui ha mezzi anche per poter fare una categoria superiore tranquillamente. Lo penso, ma gliel'ho già detto a lui. Ma l'ho lasciato fuori anche per tre o quattro partite, proprio per vedere se si incazzava un pochino e se la smetteva di fare le cazzate, montare sopra il pallone, toccare una volta di più. Il centrocampista non esiste. Il centrocampista è quello che gioca in funzione della squadra. Lui ha due possibilità, o gioca in una certa maniera o sta fuori. Finché gioca come sta giocando, gioca, perché corretti da quella qualità che forse poi in mezzo al campo ci mancava. Deve capire che sono anni importanti per lui, non deve sbagliare più niente. E poi quando si smette di giocare, è dura. Dal Corriere dell'Umbra, l'anima di Cherubini, la Plus Valenza Brunori e il Canale Perugia. Anche l'Umbra nelle 544 pagine con cui la procura di Torino indaga sulla Juventus. Manna spinge il bomber a Pescara, ma lo sminuisce. Non lo prenderei mai, si parla di Prunori. Nel merino l'operazione Spinazzola e Ranocchia, più i mandati di Fioravanti. Qui in foto è proprio il dirigente della Juventus, Federico Cherubini, che lavora da Juventus dal 2012, nato a Foligno, ha giocato nella società della sua città, poi diventandone anche dirigente in Serie C. Grifo davanti a un problema, solo dicirete l'attivo. L'attacco resta il peggiore della categoria. Dell'Orca Centro Giovedì è tornato a disposizione di Castori. Castori, intanto, per quanto riguarda il Perugia. Ternana, ora giocano tutti. Scopri il valore di ognuna, detto Andriazzoli. In attacco spazio a Rovaglia, Spalluto e Capanni, per quanto riguarda, dunque, anche le scelte del nuovo tecnico. A Bolzani e Rossoverdi incontrano i tre ex. Sono Mazzocchi, Capone e Carretta. Defende Favilli, intanto, regolarmente in gruppo. Sempre Box, Capuano e Donna Rumma. Sir Suse, già in semifinale, l'abbiamo visto per quanto riguarda il mondiale per club di volley. Herme Group batte la capolista, Pineto e torna al successo dopo tre sconfitte di fila in A3. Gubbio, siamo un osso duro. L'ex Suciu gioca con la Torres, il rosso blu con più qualità, ma anche noi abbiamo una buona squadra contro Scappini. Livere di Achite, c'è poco da scherzare. Il centrocampista ritrova Braglia, abbiamo idee diverse, però alla fine lo abbraccerò, ha detto Suciu. Per quanto riguarda il Gubbio, dunque, 3-4-1-2, confermato sul campo della Torres, anche per il Corriere. E poi, per quanto riguarda le squalifiche, Calcio a 5, Don Pugna, l'arbitro, giocatore squalificato fino al 30 giugno 2026. E' successo nel campionato di C2 a Real Cannara, club a cui è stato anche inflitto il KO a tavolino contro la Virtus Gualdo. Basket, weekend, fratta atomica, Giunzer e Cisilver, ma si torna subito in campo per il riscatto. Eccellenza, Sorbelli, Baby Bomber, un nuovo inizio, detto il 2002 del Branca Calcio, ancora segno in campionato, infortunio alle spalle con il suo gol, il Branca ha battuto il Sanzisto. Chiudiamo con il messaggero, Grifo, con i piccoli segnali dal fondo, dopo il pari con la spalla, il problema resta il gol per Melchiorri, che ha sbagliato proprio il rigore con i ferraresi e compagni. Gubbio in caffa della Torres, pensando alla Reggiana, per la formazione di Braglia. Foligni e C4, due pareggi diversi, Rabbia, Quotroneo in eccellenza. Silsusa, il Mondiale è subito bello, un esordio spettacolo. Ha vinto anche stasera, abbiamo visto la formazione perugina nella seconda gara stanotte, per la precisione. Ferre, Iennarilli e Pararigori, due penalti naturalizzati dal portiere, hanno permesso alla Ternana di avere quattro punti in più in classifica. Col Suttirollo torna la sfida contro Bisoli, allenatore proprio dei Bolzanini, e Caos dopo la gara col Foligno. 12 denunce per quanto riguarda i tifosi della Narnese. E tutto anche per lo sport in questo appuntamento con TG Mattina. Ora pubblicità, però restate con noi perché torniamo quanto prima con il caffè dedicato, come ogni sabato, al meteo.